Tornando all'attualità, in questi giorni fa molto discutere la vicenda della popolare di Bari, di questo salvataggio, soprattutto perché ovviamente si è fatta notare alcune differenze, alcune discrepanze con quanto era stato fatto da altri governi, e anche eventualmente la contraddizione di chi criticò il decreto salvabanche dell'altra volta, nel caso Etrugia e non solo, e ora invece sono gli stessi anche ex dipendenti di Etrugia, mi pare c'è una posizione del sindacato Fabi che dice questo, come mai alla fine ci sono stati trattamenti di serie A e di serie B. Perché questa storia delle banche ogni tanto si ripresenta con questa gravità e poi deve intervenire lo Stato che in un verso o nell'altro, però chiaramente provoca scontento, provoca anche possibili perdite come è accaduto la volta scorsa? Ma come sempre accade, appunto, sono i rapporti di forza a determinare nella società, tra le classi, quindi ci sono delle classi di serie A e di serie B, anche nei salvataggi. Io mi ero permesso quando Francia e Germania hanno rimesso a posto le loro banche con l'operazione in Grecia, perché di fatto lo stritolamento del popolo greco è avvenuto per salvare l'esposizione delle banche tedesche e francesi. Avevo parlato di un socialismo per i ricchi, cioè lo Stato invece di allargire nei termini del welfare una ridistribuzione della ricchezza al popolo partendo dalle classi popolari, dalle classi meno ambienti, fa l'esatto contrario, una sorta di Robin Hood al contrario, lo Stato, che finanzia appunto i ricchi, i super ricchi delle grandi banche. E dentro questi finanziamenti, questa sorta di socialismo per i ricchi, ci sono i ricchi di serie A, stiamo parlando dei grandi gruppi, delle grandi banche, e del socialismo di serie B per le banche più piccole. Però, insomma, queste operazioni, definiamole di salvabanche, sono, io mi sono permesso, vorrei avere il copyright, di definirlo operazioni di socialismo per i ricchi. Grazie. 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 Grazie.